Wey bella ragazzi! Benvenuti in questo nuovo coglione che sono... Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Cappadola, io sono Valentino e oggi faremo un nuovo Man vs Food Scusate per i capelli ma mi sono appena alzato e non ho avuto tempo di aggiustarlo Bene ragazzi, andiamo! Ragazzi, madonna, ma quanti sono? Bene ragazzi, andiamo a preparare i nostri dieci tramezzini Non so un cazzo di questa cucina, non riesco a trovare il cortello ma lo troverò Sì, ma il cortello? Venga, mandi andiamo a fare così Certo, non l'avrò visto Grazie, adesso faccio il E' capondo quello che voglio fare Ma? Certo, e la vai capito Iniziamo a fare questi cosi Quindi uno qua E uno Come cazzo si fanno? Così Così Uno e uno E boom Ecco i primi due Slash Tagliati Tagliati Dai I primi due sono andati Colgo l'opportunità per chiedere a Francesca Eugenio una domanda Siete voi due soli in tutto il mondo Dovreste salvare qualcuno Chi portereste? A te sicuramente no Vabbè, tranne me che tanto lo so che Eugenio è minuto Ma Claudia Si sa Però le vostre ragazze non ci sono più Scusate Roberto e Claudia, vi voglio bene Una persona sola Chi portereste? La sorella Una sola persona però potete salvare Eh sì Questo sarà il primo e credo l'ultimo man vs food della Germania Perché non mi piacciono molto le cose che ci sono qua per mangiare Non credo che siano molto buone Quindi Mi sa che non ne farò più Tutti i pomodori bastanti Questo va qua Questo lo metto qua Giusto il petto Ok andiamo avanti C'è uno Figlio di Wey Era caduto tutto Per essere fatti Do Bene ragazzi i nostri dieci tramezzini sono pronti Adesso li lasciamo un po' in figo In frigo In frigo Vabbè avete capito Per farli un po' raffreddare Così sapranno anche un po' più buoni Bene ci vediamo fra dieci minuti Iniziamo subito la sfida Buon appetito Il primo è andato Andiamo al secondo Secondo andato Il terzo è andato Nessun c'è il quarto Ragazzi volevo dirvi una cosa Avete notato che ho cambiato maglia Sì quella là si era un po' sporcata Era diventata tutta pomodorata Diciamo Bene il quinto Ogni tanto guardo io là perché c'è studio aperto Bene Bene ecco il sesto Bene ragazzi questo è il sesto Grazie a tutti Ragazzi non ce la faccio più Ragazzi sono arrivata a sette A sette Adesso Ragazzi credo che l'ottavo sarà l'ultimo Perché io non ce la faccio più Veramente Non ce la faccio più Speriamo di Non ce la faccio più Ecco Grazie a tutti Non ce la faccio più Beh Come dire Ancora una volta vinto il cibo Io non ce la faccio più Perché sono veramente esausto Ragazzi volevo sfidare Eugenio e Francesco Che sono i miei più grandi amici Nella sfida dei tramezzini Io ne ho mangiati sette e mezzo C'è la prova No Sì Sette e mezzo Sì vabbè comunque Sono sette e mezzo Io vi sfido a mangiarne otto Non più Otto Ma no Quattro uno e quattro l'altro Otto uno e otto l'altro Se riuscirete Dovrò pagare io un pegno Scelto dai nostri fans Comunque Vi ricordo Di seguirci su facebook Perché come ha detto Eugenio Sono parecchi video Che lo stiamo dicendo Ma nessuno è ancora Andato a seguirci Di lasciare un bel pollicione Di iscrivervi Specialmente E di proporci sfide Challenge Qualsiasi cosa Noi le faremo per voi Bella a tutti ragazzi Qui da Valentina è tutto Caffo d'oro sempre presente Ciao